È indubbiamente la ZTL della Discordia, quella istituita nel comune di Subbiano, una recente decisione della giunta comunale guidata dal sindaco Antonio De Bari. In via Aretina, una via centrale del comune del Basso Casentino, è stata appunto istituita una zona a traffico limitato, a cominciare proprio dall'11 di maggio. Gli orari in cui l'accesso alle auto è limitato sono dalle 9 alle 13, dalle 17 alle 16 e dalle 16 e dalle 16 e 30 alle 7 del mattino. Sono salvi gli orari di uscita ed entrata degli alunni delle scuole, anche se una nonna non è proprio d'accordo. I bambini dell'infanzia escono dalle 15 e 30 alle 16, quindi per forza dobbiamo andare tutti a piedi anche quando è diluvia, quando nevica, mentre avremmo potuto utilizzare questi parcheggi che ci sono. Le motivazioni che hanno spinto la giunta comunale a questa decisione leggiamo nel volantino diffuso alla cittadinanza, risiedono nel voler cercare una maggiore sicurezza per tutti i cittadini che frequentano questa zona di Subbiano. Nello stesso volantino l'amministrazione comunale invita tutti comunque a dare il proprio parere e contributo per una soluzione, leggiamo per adesso, sperimentale. E così i due consiglieri di minoranza non ci hanno pensato due volte e hanno già presentato una interrogazione con la quale chiedere la revoca di questa ordinanza. Credo che sarebbe stato opportuno parlarne di questa cosa e vedere, magari ci possono essere anche delle motivazioni che noi non capiamo, ma mi sembra un po' scellerata come soluzione improvvisata, se arriva a lunedì mattina ci sono i manifesti che si chiude la strada. Insomma, voglio dire, bisogna un attimino, secondo me, rifletterci su una decisione di questo tipo. Sì, questa sperimentazione deve essere fatta, ma prima deve essere concertata con tutta la cittadinanza, perlomeno con le persone sia che lavorano che abitano qui, con i genitori dei ragazzi, con la scuola. Cioè, ci deve essere un lavoro di concertazione preventivo che non è stato fatto, che crediamo che è doveroso farlo, quindi che venga immediatamente revocata questa ordinanza e poi riparliamone dopo tutti questi confronti che saranno stati fatti.